e tangenti in cambio di consegne di droga e cellulari direttamente in cella. Da ottobre 2019 ad oggi sarebbero stati documentati alcuni episodi corruzione di agenti polizia penitenziaria. Sesso in scambio di consegne in carcere quindi le prestazioni sessuali della moglie un detenuto sarebbero state concesse in cambio di consegne droga, cellulari, armi improprie, sigarette e profumi. Spesso i destinatari erano affiliati alla criminalità organizzata, detenuti nei reparti di alta sicurezza. Le indagini dei carabinieri furono favorite anche dalla denuncia di alcuni detenuti passata da Pietro Cerulli. Un disturbo inquietante vari espedienti sarebbero stati utilizzati per introdurre gli oggetti proibiti all'interno della struttura penitenziaria. Alcuni detenuti li hanno nascosti nelle scarpe e nelle parti intime. Alcuni complici hanno lanciato all'interno dell'istituto penitenziario un pallone da calcio, imbottito, di cellulari. Senza dimenticare il volo dei droni utilizzato dagli specialisti proprio come un servizio di consegna. Gli extra degli ufficiali penitenziari secondo gli inquirenti, alcuni agenti infedeli avrebbero utilizzato anche certificati di malattia falsi per poter svolgere lavori extra come, ad esempio, il servizio di vigilanza nei locali notturni. Durante l'operazione Alcatraz sono state sottoposte ad accertamenti complessivamente 30 persone, di cui quattro agenti penitenziari non più in servizio. Uno degli ex agenti è indagato perché non avrebbe denunciato all'autorità giudiziaria il presunto pestaggio di un detenuto da parte di alcuni agenti penitenziari. I dettagli dell'operazione gli indagati dovranno pertanto rispondere dei reati corruzione, detenzione ai fini spaccio sostanze stupefacenti, abuso d'ufficio, aggravata, falsità materiale in atti pubblici, falso ideologico, omessa denuncia reato, evasione ed accesso abusivo ad idonei dispositivi alla comunicazione da parte dei detenuti, nonché ulteriori violazioni del codice del sistema penitenziario.